Con una solida struttura politica e un'economia in espansione, il Ghana presenta le opportunità di investimento alle imprese italiane durante un incontro il 31 ottobre alla Farnesina che ha riunito esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale dei due paesi. Durante il Ghana Trade and Investment Forum, la delegazione africana ha illustrato il potenziale economico e le opportunità di business offerte dal paese, con un focus dedicato a tre settori fondamentali, green economy, infrastrutture e agroindustria. L'evento, che prevede anche numerosi incontri bilaterali, rientra nell'impegno della diplomazia per la crescita a sostegno delle imprese italiane all'estero. Siamo attivi, siamo presenti, ci sono già delle storie di successo, ma crediamo appunto che ci sia margine e terreno per un sensibile miglioramento della nostra presenza, della nostra collaborazione con il Ghana. Questo è lo spirito con il quale lavoriamo al Ministero degli Esteri e lavoriamo nel sistema italiano, puntando cioè ad una relazione che non sia puramente di scambio economico o di commercio, ma che componga un quadro un po' più articolato e che passi attraverso appunto una collaborazione di maggiore respiro e più di sistema. Ghana is committed to private sector participation in our economy and we have institutionalized legal and regulated frameworks to promote private sector investments. Recently we passed the Public-Private Partnership Act which is to promote private sector participation in economy. I paesi dell'Africa subsahariana stanno vivendo un'importante fase di espansione con tassi medi di crescita intorno all'8%. In questo contesto possiamo senza dubbio affermare che il Ghana è uno dei paesi più interessanti dell'area dal punto di vista della stabilità politica. Primo paese a raggiungere l'indipendenza in Africa subsahariana e delle prospettive di crescita e di sviluppo future. Il nostro obiettivo finale è infatti quello di sostenere la crescita di questi paesi attraverso attività produttive, identificando sempre più imprese come motori di sviluppo ed un valido strumento di cooperazione internazionale basato su iniziative di win-win cooperazione. Io credo che dovremmo organizzare una missione seriosa per il Ghana per il prossimo anno. Abbiamo bisogno di planare perché ci sono molte attività. Ma l'Italia, come un paese non può essere molto forte in ogni sub-Saharan paese. Credo che dovremmo concentrare i risultati dei risultati e dei risultati. Credo che siamo davvero forte in tre paesi. Credo che dovremmo focalizzare la nostra priorità per i prossimi due o tre anni, perché sono tutte le precondizioni attivano la qualità di vita e la stabilità.